Buongiorno, benvenuti alla pagina di informazione di Telesud. Iniziamo con la notizia del giorno. Come sempre, acqua ad erice esposto in procura. La sindaca Danila Toscano mette nero su bianco e denuncia inefficienze, inadempienze legate all'erogazione idrica nel suo comune, indicando precise responsabilità della regione siciliana. Un vero e proprio giaccurs. Ascoltiamo. Attraverso una nota inviata via Pecca alla procura di Trapani, la sindaca di erice, Daniela Toscano, denuncia le continue e rivetute interruzioni dell'adduzione di acqua potabile in ingresso ai serbatoi da parte di Sicilacque S.p.A., che è l'unico soggetto che fornisce l'acqua all'abitato del comune. Interruzioni, si legge nell'esposto denuncia, che a volte durano anche molte ore, vista la dimensione ridotta dei serbatoi e l'altissima percentuale dell'acqua che viene dispersa a causa dell'inecotezza delle reti idriche. Tutto ciò comporta a valle l'interruzione della distribuzione programmata ai cittadini che hanno l'impossibilità di ricevere la risorsa idrica in violazione del diritto fondamentale e universale di accesso all'acqua potabile. Per quanto riguarda Siciliacque S.p.A., società partecipata dalla regione siciliana, scrive la sindaca, la stessa eroga acqua all'ingrosso al comune di erice, senza essere pagata da nessuno in assenza di un gestore unico, riportando danni economici considerevoli che si ripercuotono sulla regione siciliana che compartecipa alle azioni della società e quindi anche sui cittadini siciliani. La regione infatti, per il tramite di EAS, dagli anni 60 gestisce il servizio idrico integrato a erice. Nonostante il tentativo nel 2018 di riconsegnare le reti ai comuni, questo tentativo è stato bloccato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma. La regione siciliana, nel febbraio 2019, rileva la sindaca a posto in amministrazione coatta amministrativa, l'EAS, che da allora non può più gestire il servizio, creando pertanto una vacazio del gestore unico di cui è responsabile. A fronte di questa situazione di vacazio, Siciliacque S.p.A. oggi è il primo soggetto a farne le spese a livello economico, tanto che ha addirittura annunciato riduzione di portata del 72% per il comune di erice al fine di fronteggiare l'inadempimento della regione siciliana a individuare il nuovo gestore e porre così fine all'emorragia finanziaria a cui è sottoposta questa società a causa del mancato incasso per la vendita dell'acqua di ingrosso. È chiaro, dice la sindaca, che questa riduzione drastica del quantitativo di acqua all'ingresso nei serbatoi comunali non garantisce in alcun modo l'approvvigionamento a tutti i cittadini, poiché le reti idriche urbane attualmente registrano perdite superiori al 70%, quindi la situazione attuale, già drammatica, si aggraverebbe. Questa mancanza di risorse di Siciliacque S.p.A. è probabilmente la causa di disfunzioni continue nell'adduzione dell'acqua del potabilizzatore e crea continua sospensione del servizio che limitano fortemente la distribuzione di acqua potabile ai cittadini. È da registrare infine come da oltre un anno e mezzo l'acqua in arrivo dai serbatoi arriva spesso torbida e di colore marrone e così viene distribuita nelle case dei cittadini, arrecando gravissimi problemi in ordine al suo utilizzo. In particolare i cittadini disagiati spesso non possono comprare acqua dalle autobotti private, non possono costantemente pulire le cisterne dai residui terrosi rilasciati dall'acqua erogata, soffrendo gravissimi disagi e sostenendo spese non indifferenti. Gli unici controlli sulla potabilità delle acque vengono effettuate dal Comune, dall'Aspe e dal Siciliacque, mancando il gestore unico deputato per legge al controllo di cui al decreto legislativo del 31-2001 per palese inerzia, scrive la Toscano, della regione siciliana. Di tale situazione paradossale è responsabile la regione siciliana che non ha ottemperato a quanto disposto dalla sentenza del Tar Sicilia. Le due sentenze del Tar della Corte Costituzionale hanno di fatto accertato che era anticostituzionale procedere alla consegna delle reti al Comune e poi che la regione doveva farsi carico del problema della gestione del servizio idrico integrato. Il danno economico per il Comune di Erice è quantificabile annualmente in 200.000 Euro per la manutenzione delle reti idriche, 200.000 Euro per la manutenzione delle reti fognare e 350.000 Euro per la gestione dei depuratori. L'importo di circa 750.000 Euro, si legge nelle esposte denuncia, viene spesa annualmente dal Comune di Erice da dieci anni al fine di non interrompere il servizio pubblico senza alcun ritorno da parte della tariffa. Ci fermiamo brevemente, torniamo in studio tra poco con i titoli e le altre notizie. Giornata del disabile, c'è ancora molto da fare, superare le celebrazioni, intervenire in concreto rispetto ai bisogni delle persone e delle famiglie che convivono con la disabilità. Lo sport per integrare la disabilità, iniziativa dell'Istituto Sciascia Bufalino di Erice in campo, atleti della Paranestro Trapani e ragazzi disabili, un progetto che ha continuità. Tampone un'auto e fugge il rintracciato e denunciato dai carabinieri un cittadino cieco che aveva provocato un incidente a Marausa. Storia di un partigiano, le vicende umane, sociali e politiche di Gino Cortese, commissario politico comunista della 47esima brigata partigiana Garibaldi, in un libro che sarà presentato nel pomeriggio a Trapani, presso la Sala Sodano di Palazzo Dalì. La partita degli ex, siamo allo sport, domenica il Trapani sarà in campo, sul campo del Licata, in Granata ritroveranno l'ex Cristian Caccetta, mentre la formazione agrigentina Salvatore Maltese. L'approfondimento, circolari schizofreniche e incongruenti sulla assistenza igienico-personale ai bambini disabili a Trapani giungono dalla Regione indicazioni tra loro in contrasto. Lo sostiene il Sindaco Giacomo Tranchida, che chiede chiarezza. Nell'approfondimento potrete ascoltare le sue dichiarazioni e valutazioni sulla questione. Oggi, come avete sentito dai titoli e la giornata della disabilità, un ambito in cui c'è ancora tanto da fare sul fronte delle cure, dell'assistenza sociale, dei percorsi educativi e delle troppe barriere architettoniche nelle nostre città di servizio. Quanto pesa il tema della disabilità nella gestione delle città, delle comunità dei lavoratori, nella scuola? Molto in termini di discussione e confronto, ancora poco in termini di risultati e interventi concreti, a cominciare dall'evidenza delle barriere architettoniche. Alcune difficili da abbattere oggettivamente, anche per la conformazione di molti edifici, soprattutto nei centri storici, con palazzi pubblici e privati che hanno secoli di storia. Rimane tuttavia il tema centrale. I servizi sono spesso inaccessibili ai disabili, quando invece dovrebbero esserlo sempre e in fruizione autonoma da parte degli stessi disabili. Il sistema di cure, sebbene presente, è molto affannato per la carenza di personale e risorse economiche. Lo sostiene in una nota Leonardo Lapiana, segretario generale CISL Palermo Trapani, che rileva come la nostra società non è ancora realmente inclusiva. Mancano interventi strutturali per la prevenzione, la riabilitazione, la cura e il dopo di noi. Tema quest'ultimo estremamente trascurato alle nostre latitudini, dove le famiglie devono farsi quasi totalmente carico del congiunto con disabilità, non trovando sollievo e servizi a disposizione. Le recenti vicende attorno al tema della disabilità che vedono al centro di una cherella il comune di Trapani, la regione siciliana e le famiglie di bambini con disabilità che frequentano le scuole elementari e medie la dice lunga. Eppure, ricorda ancora il sindacalista Lapiana, la scuola, ad oggi unico presidio che offre in maniera strutturata un servizio ai ragazzi e alle famiglie, deve fare ricorso a un'alternanza di docenti di sostegno che, seppur specializzati, non sono inseriti nell'organico in maniera stabile per offrire un servizio continuativo. Ancora una volta, la vicenda degli Asacom a Palermo e degli assistenti igienico-personali a Trapani sono casi esemplificativi della fragilità della rete di supporto alle famiglie con persone disabili, cui spesso manca il supporto e che si devono confrontare non solo con la difficile gestione del congiunto, ma con mille cavilli burocratici e la lunghezza dei tempi di risposta. Rimaniamo in argomento, quarta tappa del progetto Road to the Top dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Sciascia Bufalino di Erice. Le attività in collaborazione con la Parlamento Trapani sono state organizzate proprio oggi in occasione della giornata internazionale dell'inclusione. Il servizio di Federico Tarantino. Noi dello Sciascia Bufalino abbiamo raggiunto la quarta tappa del progetto Road to the Top qui al Palasport con la pallacanestro Trapani che ci ha accolti in coincidenza con la giornata internazionale dell'inclusione che vede in campo la prima squadra, i nostri ragazzi dello Sciascia più o meno fragili, tutti insieme, per mettere in evidenza i valori di una vita sana, quelli dello sport, e dello stare insieme divertendosi. Un'attività che ha coinvolto i ragazzi della nostra scuola, un'altra scuola media, la Castronovo, che ringraziamo per la sua presenza e soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno creduto e credono in questo progetto. Per la realizzazione di questa manifestazione volevo ringraziare il presidente Andrea Badalamenti del nostro istituto Sciascia Bufalino che ci ha permesso di essere tutti qui oggi, il presidente Basciano che ci ha accolti, la squadra della pallacanestro Trapani con il capitano Marco Mollura e tutti coloro che ci hanno creduto e la coach Enza. Giovani impegnati nell'inclusione con ragazzi disabili presenti in campo, che emozione è vedere questi ragazzi giocare in campo? È bellissimo, è bellissimo perché siamo tutti uguali e cercare di dare una mano, comunque anche strappare un sorriso ai ragazzi un po' più sfortunati rispetto a noi, è paragonabile a una vittoria in campo, quindi è veramente bellissimo per noi ed è un piacere poter continuare questa relazione che abbiamo con le scuole che purtroppo a causa Covid non è potuta andare avanti negli ultimi due anni. Siamo felici di poter riprendere questo percorso con la società e con le scuole e speriamo di poter fare più incontri possibili per cercare di regalare più emozioni anche a questi ragazzi un po' più sfortunati. Cambiamo argomento per riprendere la questione della disabilità ma dal punto di vista amministrativo burocratico nell'approfondimento e parliamo di trasporto aereo, in particolare dei disagi aerei. Nel mese di novembre scorso 2250 passeggeri siciliani hanno dovuto denunciare dei disagi nei viaggi aerei. Bene l'aeroporto di Tapanibigi, il report è di una società specializzata, il servizio. La Sicilia, per le ovvie ragioni di insularità, è tra le regioni italiane con il maggior numero di viaggiatori che usano l'aereo per spostarsi. Nel mese di novembre scorso 2250 passeggeri hanno denunciato di servizi per voli calleggellati o in ritardo superiore alle tre ore. Circostanza quest'ultima in base alla quale, grazie all'applicazione del regolamento dell'Unione Europea 261 del 2004, ad ogni singolo passeggero spetta la compensazione di 250 euro. I disagi riscontrati sono in massima parte ritardi. Solo un volo è stato cancellato in Sicilia per cause riconducibili alle compagnie aeree. Si tratta in particolare del volo Palermo-Milano-Linate dello scorso 18 novembre dell'ITA Airways, per un probabile guasto. I ritardi fanno la parte del leone delle contestazioni alle compagnie aeree che operano negli scali siciliani. Oltre 56 ore, infatti, sono state accumulate di ritardo nel solo mese di novembre negli aeroporti siciliani. Ritardi quasi equamente divisi per gli scali di Palermo e Catania. Sono le low cost che hanno i maggiori ritardi, superando per le tratte siciliane le 40 ore complessive. Positivo, invece, il report per gli aeroporti di Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa, che nel mese di novembre non hanno riscontrato particolari disagi per i passeggeri. I dati sono stati rilevati dalla società trapanese Italia Rimborso, specializzata nell'assistenza ai passeggeri che subiscono disagi nei viaggi aerei. Pausa per noi, ci fermiamo, torniamo in studio con altre notizie di cronaca politica e cultura. Tampone un'auto e fugge il rintracciato e denunciato dai carabinieri, un cittadino di nazionalità cieca che aveva provocato un incidente a Marausa. Storia di un partigiano, le vicende umane, sociali e politiche di Gino Cortese, commissario comunista della 47esima brigata partigiana Garibaldi, in un libro che sarà presentato nel pomeriggio a Trapani. La partita degli ex domeniche il Trapani Calcio sarà sul campo dell'Icate, Granata ritroveranno l'ex Cristian Caccetta, mentre la formazione agrigentina Salvatore Maltese. Tampona una automobile e scappa, rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato. È accaduto ieri a Marausa. Il servizio. I carabinieri di Napola sono intervenuti nella frazione di Marausa a seguito di un incidente stradale in cui il conducente di un'auto con targa straniera, dopo aver violentamente tamponato un altro mezzo, è fuggito. A chiedere l'intervento una coppia di anziani conugi coinvolti nel sinistro che hanno fornito ai carabinieri i dettagli sull'incidente e la targa anteriore dell'auto che li aveva poco prima tamponati, persa a seguito della collisione. I militari, assicurate le cure alle vittime, che se la sono cavata con qualche giorno di prognosi e tanta paura, si sono messi sulle tracce del fuggitivo. Le ricerche hanno impegnato tutte le pattuglie in circuito sul territorio. In poco tempo, l'auto dell'investitore è stata rintracciata nel territorio di Paceco. Il conducente, un uomo di 41 anni, originario della Repubblica cieca, è stato sottoposto a controllo, visto l'incidente di cui si era reso responsabile poco prima. Il cittadino cieco, però, ha rifiutato l'accertamento con etilometro, per cui i militari hanno applicato il massimo della sanzione. L'uomo, inoltre, è stato denunciato anche per fuga ed omissione di soccorso a persone ferite in incidente stradale. È stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala il fermo di un cittadino tunistino arrestato qualche giorno fa dalla Guardia di Finanza per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il servizio. L'attività e la Guardia di Finanza fa riferimento ad un intervento di una motovedetta che il 23 novembre scorso è stata dirottata a Pantelleria su un target sospetto avvistato alla rete radar costiera monitorata alla sala operativa del reparto operativo aereo navale di Palermo. La motovedetta ha intercettato un gommone guidato da un cittadino tunisino che si stava allontanando dall'isola a luci spenta in direzione della Tunisia. A bordo sono state ritrovate numerose tanniche di benzina, genere alimentari, bottiglie d'acqua a vote, giubbotti di salvataggio e indumenti vari, segni evidenti che il natante era stato utilizzato per il trasporto di persona. A terra, intanto, i finanzieri di Pantelleria hanno rintracciato 15 cittadini tunisini, evidentemente appena sbarcati sull'isola. I successivi accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso di acquisire e documentare gravi indizi di colpevolezza a carico dello scafista tunisino, il cui arresto è stato convalidato dal GIP di Marsala. E' sempre in relazione a questo sbarco che Pantelleria e i carabinieri hanno arrestato due cittadini tunisini, appunto, erano sbarcati pochi giorni addietro sull'isola di Pantelleria e l'arresto è avvenuto presso il centro di permanenza per rimpatri di Contrada Milo. Uno dei due, appena diciottenne, era gravato da un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Trapani nell'ottobre del 2020, mentre il suo connazionale, 24 anni, è risultato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ragusa nel 2018. Entrambi saranno espulsi. La politica, il PD di Trapani, ha organizzato un incontro dal titolo Rigenerazione Urbana, idee per una città più vivibile. Il servizio. Ieri sera presso la sede provinciale del Partito Democratico, in corso per Santi Mattarella a Trapani, si è tenuto il secondo degli incontri tematici del Direttivo del Circolo. L'incontro è stato dedicato allo sviluppo del territorio in un'ottica di sostenibilità e tenendo conto della struttura e della storia della città di Trapani. L'assessore Dario Safina ha illustrato le principali tappe del percorso intrapeso dall'attuale amministrazione, percorso mirato alla rigenerazione urbana e dalla riappropriazione dei luoghi più significativi della città da parte dei trapanesi. La relazione di Safina ha preso le mosse dai progetti in corso di realizzazione e dai finanziamenti ottenuti relativi alla mobilità, per poi toccare le diverse realizzazioni che vanno dal recupero del Campanile di San Domenico e della Casina delle Palme a quello di Torre di Ligny. Ad ogni recupero è associata una idea di concreta gestione, senza la quale le risorse impiegate si tramuterebbero nello stato di abbandono di beni di rilievo storico-artistico ed in spreco di risorse pubbliche. Safina ha anche fatto il punto sulle esigenze di ogni quartiere di Trapani, riferendosi ai tanti piccoli e grandi problemi che vanno dalla manutenzione ordinaria alle reti fognarie, dalla vivibilità alla microcriminalità. Temi ai quali l'amministrazione, ha detto l'assessore Safina, rivolge la medesima attenzione affinché la città possa realmente risultare attraente e competitiva a livello turistico e aspirare ad un rilancio economico. L'incontro è stato trasmesso in diretta ed è tuttora visibile sulla pagina Facebook del circolo PD di Trapani. Prima di Natale è previsto un terzo incontro che sarà dedicato ad ulteriori aspetti dell'attività condotta dall'amministrazione cittadina. Questo pomeriggio, con inizio alle 17, presso la Sala Sodano del Comune di Trapani, la sezione trapanese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia presenta il libro Storie di un partigiano, Gino Cortese, il commissario Ilio. Un libro scritto da Enrico Cortese, figlio di Gino, pubblicato da Salvatore Sciascia, editore. Gino Cortese è stato un partigiano, commissario politico della 47esima brigata Garibaldi con il nome di Ilio. Con i suoi compagni ha operato nel versante orientale del passo della Cisa a cavallo delle province di Parma e Reggio Emilia. Cortese è stato anche parlamentare comunista all'Assemblea regionale siciliana durante le prime cinque legislature, dal 1947 al 1967. L'impegno politico e antifascista di Gino Cortese è cominciato negli anni 30, quando ancora studente liceale entrò in una cellula clandestina del PCI, dove incontra fra gli altri il suo maestro, Pompeo Colaianni, e il futuro procuratore della Repubblica, Gaetano Costa. Di questo suo impegno politico giovanile aveva già scritto Leonardo Sciascia in Le parrocchie di Regalpetra. Enrico Cortese, figlio di Gino, con questo libro ripercorre la storia del commissario Ilio lungo la storia siciliana e italiana della fase centrale del secolo scorso. Egli narra la vicenda della 47esima vista dal di dentro, anche attraverso testi scritti da testimoni o costruiti sulla base di testimonianze. Terminato il conflitto, Gino Cortese torna in Sicilia e si mette all'opera per la ricostruzione della federazione del PCI. Il contesto è quello di una terra immiserita dalle distruzioni e dalla fame, dall'annoso problema dell'assegnazione delle terre incolte e dell'applicazione dei decreti gullosegni. Anni in cui alla lotta per l'occupazione delle terre, polizia, carabinieri ed esercito si oppongono con le armi e con gli arresti. Il parlamentare Luigi Cortese viene arrestato e liberato dopo più di un anno. Segue la scelta del milazzismo, che susciterà tanto dibattito all'interno del PCI e del suo gruppo parlamentare. Il libro mostra la figura di Gino Cortese quale egli fu. Un combattente colto e generoso, attento ai bisogni della popolazione, la lotta al fascismo vista non solo come cacciata del nemico invasore, ma come lotta per una società più giusta e democratica. Nuovo appuntamento con il cartellone degli amici della musica di Trapani per la sezione crossover. Oggi pomeriggio, con inizio alle 18.30, al Museo di Arte Contemporanea San Rocco, ad andare in scena sarà Albert Dürer, Genio e inquietudine. Conferenza a concerto sulla personalità e l'opera di Dürer, l'artista considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale. La regia è di Bettilo Sciuto. Ad intervistare sarà Don Liborio Palmieri, mentre le musiche rinascimentali saranno eseguite da Edoardo Egez. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Sede Provinciale di Trapani ha visto in queste ore rinnovare i propri vertici per il quadriennio 22-25. I consiglieri del nuovo direttivo sono stati eletti in presenza del presidente regionale FIAIAP, Carmelo Mazzeppi. Il neopresidente eletto è Vito Campo e con lui ci sanno Carmen Di Puma, vicepresidente, Francesco Minaudo, segretario tesoriere, Manfredi Muscolino, consiglieri. Il direttivo verrà completato nelle prossime settimane con una nuova assemblea provinciale. Siamo giunti agli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.30 in replica alle 22 e ancora a mezzanotte e mezzo, per Sipario, tutto quanto fa spettacolo, Nicola Gugliaro presenta la seconda parte del recital del pianista Costantino Catena a pre e una lecture du dante di Franz Litz. In programma la raccolta di Litz dal titolo Venezia e Napoli. Ancora la nostra programmazione. Alle 21 e alle 23 torna Res Pubblica Sicilia chiama Europa. Nella prima parte in studio con il direttore Nicola Baldarotta, l'onorevole Sergio Tancredi di Attiva Sicilia. Nella seconda parte ospite la scrittrice trapanese Alessia Piemonte. Ed ora il meteo. Lo sport con la partita degli ex domenica il Trapani Calcio sarà sul campo dell'Icata. I Granata ritroveranno l'ex Cristian Caccetta, mentre la formazione agrigentina Salvatore Maltese, capitano fino alla scorsa stagione dei giallobru. Il servizio è di Federico Tarantino. L'Icata-Trapani rappresenta la gara della conferma per i Granata, reduci dalla vittoria contro San Luca dopo il cambio allenatore avvenuto nella scorsa settimana. I trapanesi, infatti, in campionato non hanno mai vinto due gare di fila consecutivamente. La sfida tra le siciliane, che si affrontano domenica, sarà anche la partita degli ex. Salvatore Maltese, fresco del primo gol con la maglia del Trapani, ritornerà in quel di Licata, dove ha giocato fino alla scorsa stagione e per cinque anni, ricoprendo anche i gradi di capitano. Altro ex della partita è Cristian Caccetta, oggi a Licata e in Granata fino al 2013-2014 con la prima promozione in Serie B della storia e club Siculo. A lui è anche allegato il ricordo di San Siro, con il gol all'Inter in una notte entrata nella storia dello sport trapanesa. Come si fa a dimenticarla? Sì, 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 ancora ogni tanto mi passano quelle immagini per la mente. e c'è un ricordo ancora nitido, proprio tutto nella testa ed è bellissimo, veramente. Anche noi, tra l'altro, adesso ti stiamo vedendo nell'abbraccio con Simone Basso e Dai. Che belle emozioni, davvero meravigliose. Adesso però dobbiamo parlare di altre emozioni, Cristian, perché la tua realtà adesso è a Licata. Sì, 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 è partita questa nuova avventura. Diciamo che è stata una... Ho preso una decisione un po' così... Un po' controvoglia all'inizio, devo essere sincero, perché volevo aspettare qualcosina di diverso, però purtroppo la mia stagione scorsa non è stata delle migliori. un'infortunio mi ha limitato, diciamo, nella prestazione e quindi è andato un po' così. Adesso invece sono molto felice, perché si sta vivendo una situazione molto carina e stiamo facendo anche abbastanza bene. Sono soddisfatto, diciamo, della scelta che ho fatto. A Trapani continua a tenere banco la questione legata all'assistenza igienico-personale agli studenti con disabilità gravi e gravissime della scuola dell'obbligo. Da un lato i sindacati e alcune parti politiche che sostengono essere competenza del Comune, dall'altra parte il Comune che invece sostiene essere competenza della istituzione scolastica, quindi del Ministero dell'Istruzione. In mezzo, peraltro, la Regione con circolari e documenti poco chiari. Ieri sera, a De Politicum, ancora una volta il sindaco di Trapani ha messo in evidenza le incongruenze degli uffici regionali che, da un lato, spingono il Comune ad avvalersi dei fondi del distretto di 50 per erogare il servizio e dall'altro, invece, lo bloccano con ulteriori specifiche e cavilli. Ascoltiamo il sunto delle dichiarazioni del primo cittadino di Trapani. Io, rispettando i toni, sto bottagliando contro un coperchio che incidentalmente stiamo scoperchiando di mala politica che c'è in Sicilia ed è una politica clientelare. Dietro l'operazione dei servizi di assistenza igienico personale non c'è tanto per la volontà di un sistema politico e di alcuni legislatori l'interesse a tutelare il disabile. C'è quello di tutelare qualche opportunità di lavoro avuta con raccomandazioni con qualcuno che lavorava e lavorava nel sistema delle cooperative. Due, peraltro, questa situazione allontana l'obiettivo centrale che è quello di prevedere un seguimento di intervento tra la disabilità e la disabilità gravissima che la legge oggi non tutela. Non è un caso che noi abbiamo fatto uno sforzo come amministratori di periferia, mettiamola così, di proporre al legislatore regionale in quella commissione circa un mese fa di farsi carico di fare una modifica al sistema normativo ci vuole un voto in aula né mesi né anni quando vogliono fare le cose in un giorno i parlamentari regioni ci vediamo in giro o per prevedere il servizio sociosanitario e il servizio sociosanitario è quello che sostanzialmente adesso il dirigente della regione dice fatelo con i fondi del distretto come hanno fatto altri comuni del resto fatelo con i fondi del distretto lo dice lui la sera mentre la mattina continuano ad arrivare le lettere dei suoi impiegati dei suoi subatterni che dicono non si possono utilizzare i fondi del distretto di 50 dopo di ciò il discorso qual è? la regione non può dire no non puoi fare i servizi non possiamo inserire somme nel distretto sociosanitario perché non si possono fare interventi che sono di competenza del personale ATA non puoi occuparti di prevenzione della tossicodipendenza e fare sensibilizzazione perché è compito dell'ASP questa è l'ultima lettera che ci è arrivato dalla regione con i fondi del distretto non puoi fare supporto educativo scolastico con i fondi del distretto a scuola perché è competenza della scuola e allora la finiscono il direttore generale come si chiama Greco l'assessore come si chiama Scavone bene io sono un modesto ragioniere non ho altre qualifiche particolari sono contento che ci sia la possibilità di un approfondimento qui in una trasmissione di un'ora davanti alle persone assolutamente con sua eccellenza l'assessore regionale e con sua eccellenza il dottore Greco che dicono una cosa diversa da quella che lo stesso giorno dicono i loro uffici la smettano seconda edizione del nostro TG Sud apertura dedicata alla giornata internazionale della inclusione la disabilità è un ambito in cui c'è ancora tanto da fare sul fronte delle cure dell'assistenza sociale dei percorsi educativi e delle troppe barriere architettoniche nelle nostre città il servizio sta per partire Quanto pesa il tema della disabilità nella gestione delle città delle comunità dei lavoratori nella scuola? Molto in termini di discussione e confronto ancora poco in termini di risultati e interventi concreti a cominciare dall'evidenza delle barriere architettoniche alcune difficili da abbattere oggettivamente anche per la conformazione di molti edifici soprattutto nei centri storici con palazzi pubblici e privati che hanno secoli di storia rimane tuttavia il tema centrale i servizi sono spesso inaccessibili ai disabili quando invece dovrebbero esserlo sempre e in fruizione autonoma da parte degli stessi disabili il sistema di cure sebbene presente è molto affannato per la carenza di personale e risorse economiche lo sostiene in una nota Leonardo Lapiana segretario generale CISL Palermo Trapani che rileva come la nostra società non è ancora realmente inclusiva mancano interventi strutturali per la prevenzione la riabilitazione la cura e il dopo di noi tema quest'ultimo estremamente trascurato alle nostre latitudini dove le famiglie devono farsi quasi totalmente carico del congiunto con disabilità non trovando sollievo e servizi a disposizione le recenti vicende attorno al tema della disabilità che vedono al centro di una cherella il comune di Trapani la regione siciliana e le famiglie di bambini con disabilità che frequentano le scuole elementari e medie la dice lunga eppure ricorda ancora il sindacalista Lapiana la scuola ad oggi unico presidio che offre in maniera strutturata un servizio ai ragazzi e alle famiglie deve fare ricorso a un'alternanza di docenti di sostegno che seppur specializzati non sono inseriti nell'organico in maniera stabile per offrire un servizio continuativo ancora una volta la vicenda degli Asacom a Palermo e degli assistenti igienico-personali a Trapani sono casi esemplificativi della fragilità della rete di supporto alle famiglie con persone disabili cui spesso manca il supporto e che si devono confrontare non solo con la difficile gestione del congiunto ma con mille cavilli burocratici e la lunghezza dei tempi di risposta le inefficienze del progionamento idrico nel territorio comunale di Edice finiscono in un esposto in procura lo ha scritto mettendo nero su bianco la sindaca Daniela Toscano che ha denunciato inadempienze legate proprio all'erogazione idrica nel suo comune indicando anche precise responsabilità da parte della regione siciliana che non ha ancora individuato nonostante siano passati tanti anni un gestore idrico io vi lascio a questo servizio molto dettagliato di Nicola Baldarotta su questo esposto che fa capire un po' qual è la situazione a Edice e qual è il quadro di fronte al quale si trovano non solo il comune di Edice ma anche molte altre amministrazioni comunali del territorio trapanese che erano in passato servite dall'EAS attraverso una nota inviata via Pecca alla procura di Trapani la sindaca di Edice Daniela Toscano denuncia le continue e rivetute interruzioni dell'adduzione di acqua potabile in ingresso ai serbatoi da parte di Sicilacque S.P.A. che è l'unico soggetto che fornisce l'acqua all'abitato del comune interruzioni si legge nell'esposto denuncia che a volte durano anche molte ore vista la dimensione ridotta dei serbatoi e l'altissima percentuale dell'acqua che viene dispersa a causa dell'inecotezza delle reti idriche tutto ciò comporta a valle l'interruzione della distribuzione programmata ai cittadini che hanno l'impossibilità di ricevere la risorsa idrica in violazione del diritto fondamentale e universale di accesso all'acqua potabile per quanto riguarda Siciliacqua S.P.A. società partecipata dalla regione siciliana scrive la sindaca la stessa eroga acqua all'ingrosso al comune di Erice senza essere pagata da nessuno in assenza di un gestore unico riportando danni economici considerevoli che si ripercuotono sulla regione siciliana che compartecipa alle azioni della società e quindi anche sui cittadini siciliani la regione infatti per il tramite di EAS dagli anni 60 gestisce il servizio idrico integrato a Erice nonostante il tentativo nel 2018 di riconsegnare le reti ai comuni questo tentativo è stato bloccato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma la regione siciliana nel febbraio 2019 rileva la sindaca apposto in amministrazione coatta amministrativa EAS che da allora non può più gestire il servizio creando pertanto una vacazio del gestore unico di cui è responsabile a fronte di questa situazione di vacazio siciliacqua SPA oggi è il primo soggetto a farne le spese a livello economico tanto che ha addirittura annunciato riduzione di portata del 72% per il comune di Erice al fine di fronteggiare l'inadempimento della regione siciliana a individuare il nuovo gestore e porre così fine all'emorragia finanziaria a cui è sottoposta questa società a causa del mancato incasso per la vendita dell'acqua di ingrosso è chiaro dice la sindaca che questa riduzione drastica del quantitativo di acqua all'ingresso nei serbatoi comunali non garantisce in alcun modo l'approvvigionamento a tutti i cittadini poiché le reti idriche urbane attualmente registrano perdite superiori al 70% quindi la situazione attuale già drammatica si aggraverebbe questa mancanza di risorse di siciliacque SPA è probabilmente la causa di disfunzioni continue nell'adduzione dell'acqua del potabilizzatore e crea continua sospensione del servizio che limitano fortemente la distribuzione di acqua potabile dei cittadini e da registrare infine come da oltre un anno e mezzo l'acqua in arrivo dai serbatoi arriva spesso torbida e di colore marrone e così viene distribuita nelle case dei cittadini arrecando gravissimi problemi in ordine al suo utilizzo in particolare i cittadini disagiati spesso non possono comprare acqua dalle autobotti private non possono costantemente pulire le cisterne dai residui terrosi rilasciati dall'acqua erogata soffrendo gravissimi disagi e sostenendo spese non indifferenti gli unici controlli sulla potabilità delle acque vengono effettuate dal comune dall'aspe e da siciliacque mancando il gestore unico deputato per legge al controllo di cui al decreto legislativo del 31 2001 per parese inerzia scrive la Toscano della regione siciliana di tale situazione paradossale è responsabile la regione siciliana che non ha ottemperato a quanto disposto dalla sentenza del TAR Sicilia le due sentenze del TAR della Corte Costituzionale hanno di fatto accertato che era anticostituzionale procedere alla consegna delle reti al comune e poi che la regione doveva farsi carico del problema della gestione del servizio idrico integrato il danno economico per il comune di Elice è quantificabile annualmente in 200.000 euro per le manutenzioni delle reti idriche 200.000 euro per la manutenzione delle reti fognali e 350.000 euro per la gestione dei depuratori l'importo di circa 750.000 euro si legge nell'esposta denuncia viene espresa annualmente dal comune di Elice da 10 anni al fine di non interrompere il servizio pubblico senza alcun ritorno da parte della tariffa di un'esposti di un'esposti di un'esposti Grazie a tutti